Radio Cusano TV Italia Radio Cusano TV Italia Io sono abbastanza felice, è un momento bello per me, è un momento di una nuova uscita, è un po' come quando esce un nuovo disco, un nuovo singolo, si è pieni di eccitazione Senti, io vorrei far vedere una clip che riguarda proprio la tua pubblicazione e poi ti faccio qualche domanda, d'accordo? Certamente Vediamola Eccola qui Allora andiamo subito a presentarla questa nuova pubblicazione, innanzitutto l'ambientazione Lisbona diciamo che è piuttosto inedita, ci ricorda quasi un Tabucchi di questi giorni, Saramago, Pessoa, insomma tutti questi scrittori che sono legati a questa nazione. Perché Lisbona, perché il Portogallo? Perché è un amore innato che io ho da sempre per questa meravigliosa città da quando la visitai diversi anni fa, adesso quest'anno proprio stamattina sarei dovuto essere a Lisbona per la sesta volta È una città dove ho tante amicizie sia portoghese che italiane, dove ho vissuto tanti bei momenti con amori e amici e quindi sono rimasto profondamente segnato dalla cultura portoghese, dalla luce bellissima di questa città, dal vento oceanico, dalle storie di sofferenza dei grandi viaggiatori e delle donne, delle cantanti di fato di questa musica così triste e lamentosa Dunque dove ambientare il mio primo romanzo se non nella mia città europea preferita? La tua scrittura diciamo è molto incalzante, si entra sempre all'interno dei 18 capitoli se non sbaglio di cui è costituito appunto il volume. Qual è la sua trama? Di che cosa parla questa nuova? Il libro è la storia di una studentessa universitaria di Roma con un incombente master in geografia da dover appunto svolgere in Portogallo a Lisbona che una mattina durante il viaggio sul tragitto sul classico treno per l'università incappa in un incidente e si ritrova catapultata a Lisbona nel 1920 quindi precisamente 100 anni indietro rispetto al 2020 perché comunque ha ambientato in questo anno funesto il mio libro. E niente, da lì viene scambiata per la compagna, per una questione di somiglianze, per la compagna di Fernando Pessoa e si ritrova quindi a dover vivere tra, a dover trovare un modo per tornare a casa ma allo stesso tempo ha la possibilità di vivere vicino a questo grandissimo poeta e scrittore e traduttore portoghese che è Fernando Pessoa e inizia a scoprire anche tutta una serie di lati inquietanti del suo carattere Pessoa è stato tra i maggiori fautori dell'eteronimia quindi di questa spersonalizzazione dell'autore in diverse vere e proprie personalità biografiche con ognuno il proprio stile, ognuno la propria storia, il proprio linguaggio il baule pieno di gente di cui parla Tabucchi che è il massimo conoscitore italiano di Pessoa che hai citato tu prima e quindi diciamo si ritrova invorticata in una serie di esperienze al limite dell'esoterismo perché Pessoa era anche un amante dell'occultismo, dell'astrologia, dell'alchimia, di tutto quello che era vicino al mistero e all'esoterico era un personaggio abbastanza cupo e ho legato queste due cose insieme quindi romanzando e a tratti invece citando dati realistici, storici, letterari, biografici anche di Pessoa e è venuta fuori questo romanzo dalla verba abbastanza incalzante Immagino quindi che il titolo sia proprio un richiamo all'eteronimia di Pessoa, non è vero? Ovvero nessuno, quindi stiamo spersonalizzando il personaggio ma anche dandogli tantissima connotazione, no? Sembra quasi comunque un filone esistenzialista ma allo stesso tempo va a riprendere proprio... Diciamo che io traslo questa cosa della spersonalizzazione anche un po' sulla protagonista, sull'una che ad un certo punto della storia non capisce più se si è la studentessa romana del 2020 se è la moglie di Pessoa per cui insomma è stata scambiata nel 1920 o se è un'altra persona ancora che poi ad un certo punto si ritrova a dover fuggire da tutti e due i mondi quindi l'una ovvero nessuno perché insomma lei riflette su questa cosa dell'essere nessuno o dell'essere molteplici che è una tematica molto cara a Pessoa. Senti stiamo vedendo adesso, lo abbiamo spesso, lo abbiamo anche qui dietro la copertina del tuo libro che è stata peraltro da te realizzata, eccola qui, è un disegno tuo, un dipinto tuo quindi che peraltro ha fatto anche parte di una campagna di crowdfunding. Allora, il dipinto è questo qua, che adesso non ce l'ho più in casa perché l'ho dovuto spedire ad un... Ecco qui, sì. Ve lo faccio vedere, aspetta che la telecamera sta qui sopra. È un, diciamo, una luna... Sarebbero luna e Pessoa quindi. Esatto, sì. No, la copertina è semplicemente una grafica che ho realizzato essendo anche un appassionato insomma di arte per immagini. E il dipinto è stato un qualcosa che ho voluto fare perché non mi ritengo un pittore come fino ad oggi non mi ritengo, non mi ritenevo uno scrittore se non un cantautore quindi ho sempre scritto più prosa che poesia, cioè più poesia che prosa, scusami. Certo, certo. Di conseguenza però insomma in questo periodo di quarantena ho avuto molto più tempo per sperimentare anche altri lati della mia creatività e uno di questi è stato il libro sicuramente e l'altro è stato anche questo dipinto ogni tanto insomma pure qua dietro forse si vedrà qualche dipinto lo faccio per hobby e questo 90x65 che ho realizzato l'ho messo in palio nella campagna di crowdfunding che ho fatto su Produzioni dal Basso per finanziare la prima stampa del libro che è andata alla grande, è già superato l'obiettivo, è ancora in corso per chi volesse insomma preordinare il libro e niente, è stato acquistato insieme alla copia fotografata del libro da un raiser, da un supporter e io sono felice cioè un po' mi è dispiaciuto in verità perché era bello appeso qui in salone però... Ne farai altre copie sicuramente, no? Come tutti i più grandi artisti Ascolta, mi stavo domandando, no? Tu nasci cantautore, insomma chitarrista abbiamo visto che sei anche dedito alle arti figurative come nasce comunque, com'è questo processo di maturazione che ti ha portato proprio alla narrativa? Come ci siamo arrivati qui? Ma forse è una cosa che mi è sempre affascinato cioè soprattutto la lettura e anche sono un grande affascinato anche di... e fruitore di cinema e serie tv quindi non l'avevo mai fatto mi era sempre rimasto il pallino ma sarebbe bello un giorno scrivere un libro però chissà quanto tempo ci vuole mettersi lì è una cosa che richiede veramente tanto tempo perché io ho passato parecchie notti insonni facendo anche molto tardi nella notte perché nel momento in cui hai il flusso creativo lo devi sfruttare E così ci sei riuscito quando hai iniziato a scrivere? Che hai deciso oggi voglio scrivere un libro hai pensato questo soprattutto? Sì, nei primi mesi del sembra proprio i primi giorni di gennaio di quest'anno dopo di ritorno da un viaggio che ho fatto a Monaco e di ritorno da varie esperienze che avevo vissuto a fine 2019 tra cui l'incontro con un carissimo docente di lettere e musicista che è Roberto De Luca che ho conosciuto all'abbazia di Farfa perché lui suonava faceva un concerto io facevo il tecnico del suono in un evento abbiamo passato un pranzo insieme a raccontarci aneddoti e io stavo sempre lì col taccuino a segnarmi le frasi le citazioni, i libri o i film che mi consigliava di vedere era un pozzo veramente di senza mai essere arrogante però era un pozzo di ispirazioni per me e quindi mi ha folgorato soprattutto con una frase che mi ha detto che è di William Lestit Moon dal libro Prateria che è la geografia combinata col tempo equivale al destino è una frase che veramente mi ha folgorato e dato che venivo da una serie di letture di libri di avventura i primi mesi del 2020 mi sono messo lì a scrivere inizialmente i primi due o tre capitoli non sapevo dove andare a parare quindi ho fatto un po' così mi lasciavo guidare da questa luna che mi era venuta a trovare con la sua storia poi grazie anche a Valeria la mia compagna insomma sono riuscito a trovare che lei è molto più pragmatica di me io sono molto più etereo quando ho queste ispirazioni lei mi ha aiutato a fare uno schema e mi ha detto devi seguire una trama però perché sennò dove vai a parare e mi ha aiutato a fare uno schema e da lì insomma c'ho ancora qui il quaderno con gli appunti e con vari schemi perché poi comunque i libri di viaggio del tempo poi l'hai seguito quindi questo schema fedelmente diciamo no? sì più o meno sì ovviamente era un macro schema che poi mi lasciava molta libertà di poter spaziare romanzando di capitolo in capitolo però insomma quando si fa parte di più ambiti artistici quindi si è appunto musicisti, pittori questi ambiti magari si compenetrano fammelo sapere tu com'è possibile appunto che si passami il termine gestiscano più variazioni sul tema rispetto alla propria natura? non lo so perché è sempre stata una cosa che ha fatto parte del mio carattere quindi sono sempre stato un creativo tra virgolette molto eclettico quindi anche se ufficialmente non avevo mai pubblicato un libro non avevo mai venduto un quadro finora comunque avevo sempre dipinto comunque avevo sempre scritto ecco magari più canzoni oppure pensieri, racconti nei miei vari taccuini io sono un maniaco del taccuino ce ne ho sempre uno in macchina uno sul comodino uno nel mio studio uno nella tasca interna piccolino della mia giacca di pelle e di conseguenza molto spesso mi capitava di scrivere anche se non erano pensieri in musica quindi anche semplicemente un racconto di un viaggio piuttosto che un pensiero era una riflessione quindi i miei quaderni sono pieni di scritti che non ho mai poi convogliato in un lavoro così organico però è anche tu un personaggio di Pessoa peraltro perché appunto lui amava descrivere i suoi personaggi parlando di uomini che giravano con moltissimi appunti quindi taccuini lui stesso era un amante degli appunti dei taccuini quindi l'hai fatto proprio tuo in questo senso sì 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 sicuramente sì poi credo che sia anche parte del mio carattere sono sempre stato anche musicalmente nei miei lavori musicali sempre stato eclettico quindi mi è sempre piaciuto non definirmi con un genere e sempre spaziare io anche a livello musicale sono un onnivoro ascolto di tutto quindi senti ma in questo periodo di quarantena cioè quando comunque eravamo bloccati tutti quanti bene o male in casa per te ha significato qualcosa dato che non avevi magari ispirazioni mi chiedo se è stato più un lavoro interiore quello che hai fatto oppure ti sei servito di tutte le immagini che hai vissuto fino al momento del lockdown probabilmente sì è stato un profondo lavoro interiore adesso che mi ci fai riflettere perché a livello musicale per esempio non ho scritto niente cioè non ho scritto neanche una canzone in questi due mesi e mezzo è strano perché sono anche sotto quel punto di vista abbastanza prolifico cioè sono uno che scrive in quantità e poi seleziona anche materiale tantissimo materiale che poi non utilizzo mai rimane nei miei taccuini dal punto di vista della scrittura invece del romanzo forse è stato un escamotage per poter uscire viaggiare non solo nello spazio ma anche nel tempo quindi per me che sono da sempre un amante della fantascienza dei romanzi di avventura del cinema serie tv anche grandi cult tipo Ritorno al Futuro Indiana Jones Jurassic Park insomma sono cresciuto con quella con quella cinematografia con quell'impronta cinematografica senti ma quello che mi chiedo sempre è questo è detto che sei uno scrittore che appunto scrive moltissimo su un flusso di coscienza e poi seleziona ma questo quindi è stato lo stesso processo per il romanzo perché io faccio molta difficoltà anche io spesso ho scritto quindi mi chiedo innanzitutto se possono scrivere tutti se questa è una cosa che si adatta appunto a molte persone e poi mi chiedo proprio il processo di creazione che succede? flusso di coscienza sulla pagina e poi siamo lì a limare come Callimaco no diciamo nel mio caso è stato più flusso di coscienza nei primi capitoli come ti dicevo prima poi guarda quando ho trovato uno schema una macro trama cercavo di seguire la trama poi romanzando tutto il contorno sei un perfezionista di quelli che mette nella pagina il testo e poi pensa ad aver sbagliato sicuramente qualcosa e lo riscrive oppure ti lasci molto i perdoni? non sono mai stato un perfezionista perché credo che la perfezione a livello artistico in qualsiasi ambito sia una cosa sbagliatissima perché bisogna sempre accogliere l'arte sempre lasciarla fluire anche se poi quello che abbiamo fatto e quasi sempre a me succede alla fine del lavoro non ci piace ma lo riapprezziamo più là nel tempo i miei dischi le mie canzoni io quando ho messo il punto che è finito il master del disco ho finito di scrivere la canzone dico sempre sì però qui avrei potuto fare quest'altra cosa però non lo faccio mai perché poi quando passano gli anni e con l'esperienza ti accorgi guardando indietro che comunque hai fatto dei progressi che hai dato l'imprimatur ecco parlando in termini appunto editoriali hai dato l'imprimatur ad un momento storico ad una ispirazione a delle immagini a dei pensieri che avevi però sono rimasti lì e anche se imperfetti sono perfetti in una linea temporale che poi delinea invece quella che è la tua crescita artistica e personale quindi per me è sempre giusto accogliere l'arte poi ovviamente abbiamo fatto anche con la casa editrice tre revisioni per i refusi per le frasi lunghe per tutto quello che si fa a livello anche estetico del libro l'impucinazione eccetera però è quasi bello che magari ci sia un refuso nel libro almeno nella prima stampa ecco beh certamente allora a proposito di prima stampa quindi dove possiamo trovare la tua pubblicazione allora da venerdì 22 maggio il libro è disponibile su qualsiasi sito di book on demand quindi di mondatori ibs feltrinelli e quant'altro quindi gradualmente comparirà in tutti i cataloghi online dei libri italiani in commercio è disponibile è disponibile ancora fino al 26 maggio in preorder sulla produzione dal bus quindi basta cercare l'una ovvero nessuna esce fuori la mia campagna che ha già superato l'obiettivo ma per chi volesse magari delle ricompense particolari tipo il libro autografato oppure i gadget che ho realizzato quindi la cartolina con il quadro il segnalibro e un bigliettino da visita con dietro un QR code scannerizzabile che vi porta a una pagina segreta del mio sito con dei contenuti extra tra cui il primo capitolo del nuovo libro che ho iniziato ma questa cosa è bellissima non l'avevo mai sentito no davvero è veramente bello bene allora guarda io ti vorrei chiedere a questo punto dato che lo abbiamo un po' presentato all'immagine tua di musicista se ci puoi lasciare un brano se a te va ovviamente ma va bene dai allora dato che parliamo di viaggi vi faccio ascoltare sedile posteriore che vi porto sul mio sedile posteriore che è il singolo del mio ultimo disco e si trova su youtube dappertutto insomma e spotify anche con un videoclip sul mio canale youtube ve lo faccio ascoltare così come l'ho scritto chitarra e voce perdonatevi insomma sono due mesi e mezzo che non suono quindi allora ti lancio come se fossimo al festival della canzone italiana Leonardo Angelucci sedile posteriore sediti qui sei coraggio su quel letto sporco di neve con il tuo seno nudo bagnato come facciamo tutte le sere guarda che un'altra canzone oggi non sono più uscito di casa la convivenza ma già messo l'ansia devo pure sfogarla in qualcosa non mi parlare di ieri ho già la vita troppo confusa ma riprimiamoci un'altra volta andiamo fuori facciamo la spesa ritorniamo stanotte alle cinque guidi tu che io sto troppo male se riesco a non addormentarmi ho già pensato dove parcheggiare sedile posteriore sedile posteriore di che non esce il sole senza più respirare vetri da appannare sedile posteriore significava amore al buio a riscoprire un modo per sudare sedile posteriore con le ginocchia in gola e un crampo fisso al cuore lungo una mezz'ora c'è un albero motore da cui ho raccolto un fiore lo coltiviamo adesso senza le cinture guarda non sono un tipo qualunque ho già la vita che mi fa del male quindi ascolta se vuoi lamentati ma i tipivisci ti lasciali stare se non scrivo altre venti canzoni non ho tempo di starmi a incazzare poi le ascolta per prima mia madre e non la voglio per far preoccupare iete da sempre ci parliamo poco non mettermi questa verbale anche se è strano perché non direi dall'ultimo voto nella prova orale quindi adesso sai bene che fare sul materasso per memorizzare la posizione del nostro amore come sul sedile posteriore sedile posteriore significava amore al buio a riscoprire un modo per sudare sedile posteriore con le ginocchia in gola e un crampo fisso al cuore lungo una mezz'ora c'è un albero motore da cui ho raccolto un fiore lo coltiviamo adesso senza le cinture senza le cinture senza le cinture qui abbiamo tutto Radio Cusano TV Italia che ti sta ascoltando se avessimo potuto ospitare il pubblico in studio avrebbero comunque applaudito te li faccio io in ogni caso gli applausi che mancano adesso e non vedo l'ora davvero da avere pubblico per poter fare ascoltare delle cose così belle grazie mille allora Leonardo io ti ringrazio per essere stato con noi torna prestissimo a trovarci magari proprio con la seconda pubblicazione eccolo qui Luna ovvero nessuno grazie di cuore grazie per lo spazio Francesca grazie a tutta Radio Cusano grazie a te ciao ciao siamo stati con Leonardo Angelucci appunto l'autore di Luna ovvero nessuno allora io vi invito ad andare a leggerlo subito e a scoprire proprio da questa intervista sul nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia allora a presto da Francesca Pierri grazie per averci seguito Grazie a tutti ragazzi a tutti Grazie a tutti.